Per i fratelli e sorelle, oggi il Signore Gesù dice a questa generazione che cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Giona è il segno della conversione. La conversione è, come oggi, secondo prima lettura, un passaggio, un cambiamento, un passaggio radicale dai figli della schiava ai figli della donna libera. Poi anche Francesco, forse un altro Giona, era anche segno della conversione. Francesco, uomo convertito, è diventato predicatore della conversione. Per questo motivo lui anche chiedeva al Papa il privilegio eccezionale dell'indulgenza plenaria della porcciuncula, perché il suo intento era unico. Lui ci mostra lo scopo della conversione. Io voglio mandarvi tutti in paradiso. Ancora riappare quel cambiamento, il passaggio fondamentale. E dai figli della schiava ai figli della donna libera, che è la nostra madre Gerusalemme Celeste. Quindi, è la nostra conversione quotidiana, non sarà così difficile. Ogni tanto, ogni tanto, non posso dire sempre, ogni tanto alziamo i nostri occhi al cielo, ci domandiamo verso dove sto andando.